Parliamo del buon Luigi Capuana con Ilaria, che viene direttamente da Pisa, però originaria di Cosenza. Da Cosenza a Luigi Capuana. Come mai? Dunque ero intriennale, studentessa di lettere, sono una grande amante dell'opera di Federico Tozzi, che è uno scrittore senese, per cui tra l'altro collaboro all'edizione nazionale delle opere di Federico Tozzi, quindi uno degli altri autori di cui mi occupo, e in uno dei saggi critici di Federico Tozzi, in un articolo del 1916, intitolato Il binomio Gozzano-Moretti, Tozzi, in combutta con le etichette titologiche italiane, cioè quell'uso di valutare un autore sulla base di un altro, riferendosi proprio a Gozzano-Moretti, a un certo punto scrive, mi sembra una situazione affine a quella del binomio Verga-Capuana, un binomio che mi sembra illogico e affatto arbitrario. Fu una segnalazione che mi colpì particolarmente, quindi la vulgata scolastica è quella di Capuana teorico del verismo, di un intellettuale all'ombra di Verga, quindi ho voluto approfondire questa cosa con una tesi magistrale da prima, poi con un progetto di ricerca con cui ho vinto una borsa di dottorato, infine con una tesi di dottorato che discuterò la prossima primavera, si spera. Ilaria Muoio è dottoranda di ricerca in studi italianistici presso l'Università degli Studi di Pisa, con un progetto di ricerca sulla produzione narrativa di Luigi Capuana, ultimo e postumo. È autrice di saggi e interventi sul verismo in Francia, sull'umorismo letterario tra la fine dell'Ottocento e il primo del Novecento, sui rapporti tra letteratura e psicologia scientifica. Tu ti sei approcciata a quest'opera, Fausto Braggia e altre novelle. Perché proprio questo? Ma dunque c'è una ragione storiografica e storicistica alla base, come è noto credo a tutti. Qui nel 1893-94 Capuana pubblica due raccolte di novelle consecutive, Le Appassionate e Le Paesane, che sono due raccolte cumulative con cui fissa un punto e autostoricizza la propria esperienza di scrittore della stagione verista. In queste due raccolte confluiscono tutte le novelle pubblicate precedentemente, riviste e rieditate. Alla prima raccolta Le Appassionate premette una prefazione militante in cui spiega qual è l'intento di questo volume, cioè chiudere una fase. Al secondo volume invece Le Paesane pospone un elenco cronologico proprio di queste novelle per consentire poi agli studiosi del futuro di ricostruire la sua storia di narratore. Dopo aver chiuso con questa fase, quella che in gergo filologico definiamo nevarietur, cioè un punto di chiusura, un punto fermo, Capuana vive una fase di stasi letteraria. Nel 1894 Pirandello pubblica un articolo sulla critica di Gino Monaldi dal titolo Conversazioni letterarie in cui si chiede che fine abbia fatto Luigi Capuana, perché non pubblica più, benché da anni stia annunciando nuove pubblicazioni. Questo è il primo volume di novelle che esce nel 1897 dopo quattro anni dalle Appassionate e Le Paesane ed è un volume che segna un punto di svolta, di snodo e di svolta significativo nella cadera di Capuana perché c'è un'estrema ricerca di modernità, di ammodernamento sia a livello tematico sia a livello formale. C'è già in quest'opera una sperimentazione che prelude alle soluzioni novecentesche, a quello che in gergo critico-lettereo definiamo il modernismo italiano, cioè la grande produzione di Pirandello, Tozzi e Svevo. Ed è un'opera di cui mancava però un'edizione moderna, cioè possediamo come per gran parte della produzione capuaniana ai noi soltanto la Princeps, cioè la stampa pubblicata dall'editore Giannotta del 1897 che è una stampa estremamente problematica perché Capuana in quel momento aveva delle difficoltà agli occhi, lo scrive a Guglielmo Collotti, chiede aiuto nel correggere le bozze e di fatti approcciarsi al testo non è stato facile. Ma è un'opera di snodo, di un punto di svolta che segna una nuova fase della scrittura di Capuana, una fase che potremmo definire pienamente novecentesca. Capuana, perché studiare e perché leggere Capuana oggi? Dunque, è una domanda molto complessa. Il cruccio di Capuana è quello che io ho definito il trasformismo letterario, cioè un intellettuale estremamente camaleontico preso da una miriade di interessi, ma è un intellettuale cruciale. Come tutti gli scrittori vissuti a cavallo fra ottocento e novecento per una deriva storicistica italiana, Capuana è stato introiettato e bloccato in una etichetta, cioè quella dello scrittore verista, che ovviamente è vero per una fase però della sua produzione, cioè quella ottocentesca, pienamente ottocentesca, fino a circa il 1890. In realtà Capuana è uno dei più moderni per gli scrittori siciliani, ad un certo punto anche, secondo un'etichetta che utilizziamo in critica letteraria, paleomodernista, cioè prelude e in un certo qual senso va anche di pari passo con le soluzioni della letteratura novecentesca. È un intellettuale che ha un forte sguardo sulla realtà contingente e contemporanea, che ha una grande lungimiranza e una capacità di giudizio e di scorgere i difetti della società contemporanea e che soprattutto è dotato di una viscomica, cioè di una forza comica e omoristica che è veramente esilarante ed è un aspetto assolutamente da riscoprire della sua produzione. Io penso che sia tutto da riscoprire Capuana, più che da riscoprire, da scoprire perché mi sono permesso in un'occasione, anzi in più occasioni, di augurare a Capuana la fortuna di Caravaggio. Capuana secondo me è completamente scollato da un contesto storico, si conosce soltanto il nome e non si riesce ad attribuire a quel nome un valore, il vero valore. Ho fatto un piccolo esperimento, io non sono un letterato, sono un cultore, un curioso, mi mancano gli strumenti per poter approfondire una cosa del genere, però ho fatto questo esperimento, sono andato a leggere i suoi esaggi, poi ho cercato di capire cosa si scriveva di Capuana al tempo di Capuana e cosa si scriveva dopo, cosa si scrive oggi. Ho scoperto che Capuana era altamente tenuto in considerazione dai suoi contemporanei. Dopo la morte, dopo decenni, chi si è occupato di Capuana non ha fatto altro, non tutti, attenzione non voglio generalizzare, alcuni non hanno fatto altro che citare gli altri, cioè citare quelli che hanno studiato Capuana, senza approfondire quella che è la materia prima. Questo secondo me non ha fatto altro che o far depositare polvere sull'operato di Capuana o addirittura scalfirne la superficie fino a cancellare delle tracce che sono delle tracce fondamentali. La domanda è questa. Oggi studiare Capuana ha bisogno di un... o meglio, lo studio di Capuana, lo studio dell'opera di Capuana, opera in senso generale, non soltanto quella letteraria, ma proprio quella anche saggistica e critica, da dove bisogna partire? Innanzitutto dai testi, cioè non si può fare critica letteraria su un autore se non si hanno dei testi filologicamente attendibili. Il problema di Capuana è che, tutt'oggi, salvo rari casi, tuttavia da rivedere, non disponiamo di testi attendibili. Un docente universitario che vuole istituire un corso sulla figura di Capuana non ha i testi da poter dare agli studenti e quindi preferisce rivolgersi altrove. Quindi innanzitutto bisognerebbe avere contezza di quello che è l'effettivo materiale attraverso un censimento e anche rendere noto il materiale che possiede la Biblioteca Capuana di Mineo, perché porto la mia esperienza, il mio bagaglio esperienziale. Quando ho iniziato questa tesi di dottorato, io mi basavo ovviamente sul già edito, non avevo contezza del materiale manoscritto e sconosciuto che si trovava qui. Avevo questo unico punto di riferimento, questo lavoro di Croge Zimbone degli anni 70, la Biblioteca Capuana di Mineo, che però restituisce, a livello di notizie bibliografiche è un 50% di quello che poi effettivamente facendo la ricerca in sede ho conosciuto. C'è da dire che la sfortuna critica di Capuana è anche legata a questo, sicuramente. Poi ha una serie di stroncature critiche che hanno nasciuto non solo a Capuana ma anche a Federico De Roberto, cioè la stroncatura di Benedetto Croge rispetto all'opera di De Roberto, aggravato come un epitaffio per anni, i vicere sono un'opera tombale che non fa mai battere il cuore. La stessa cosa è successa a Capuana, cioè Benedetto Croge e in seguito Luigi Russo hanno riconosciuto la grandezza del critico militante, perché Capuana nasce prima come critico e poi come narratore. Un saggista polemico, brillante, ma un narratore mediocre perché eccessivamente poliedrico. Quando le cose sono cospicue, particolarmente magmatiche ci spaventano. Studiarle è difficile e quindi un giudizio diventa una vulgata di riferimento. C'è stato un silenzio critico per tantissimi anni, finché nel 1970 Carlo Alberto Madrignani ha pubblicato una monografia che rappresenta tutt'oggi, sono passati quasi 50 anni, l'unico punto di riferimento degli studiosi dell'opera di Capuana. Capuana è il naturalismo. Un titolo che però ci dice già molto sull'impostazione metodologica del lavoro, cioè la prima fase culturale e letteraria di Capuana. Madrignani chiude con l'analisi di Profumo, un romanzo pubblicato nel 1890 che definisce il romanzo della crisi del naturalismo, questa è la dizione che usa, auspicando che altri studiosi proseguano sulla strada della riscoperta progressiva. Gli studi critici successivi, tutti sicuramente importanti, si sono però attestati sulla stessa linea cronologica e diacronica studiata da Madrignani. Siamo arrivati così al 2019 che manca ancora uno studio composito e organico sull'ultima produzione di Capuana, un lavoro che ho tentato di fare nel mio piccolo, che voleva essere un lavoro cumulativo e ultimativo e che è diventato nel tempo, prendendo contezza in tre anni di dottorato, della straordinaria quantità di materiale, è diventato un lavoro di partenza con un titolo, l'ultimo Capuana e la modernità letteraria, che vuole essere un omaggio al lavoro di Madrignani ma al contempo una prosecuzione del lavoro di Madrignani. Ma studiare oggi Capuana e collocarlo per bene significa aprire delle nuove prospettive, perché Capuana non si è limitato, fisicamente non è uscito mai fuori dall'Italia, è arrivato non oltre Milano, però è riuscito a abbarcare i confini con la sua opera ma anche con dei contatti concreti e quindi influenzando non soltanto i suoi, non soltanto gli italiani, ma influenzando anche gli stranieri, dicevamo oggi pomeriggio. Bene, facciamo un punto su questo che io l'ho trovato molto interessante. Diciamo che studiare lo scarto fra l'orizzonte d'attesa italiano e quello per esempio francese tra i contemporanei dà già una percezione netta della ricezione di Capuana in Italia e all'estero, già da parte dei contemporanei appunto. In Italia da un certo punto in poi, soprattutto dal primo novecento, Capuana, per una sfortuna, quella che lui definisce la mia disgrazia, continua ad essere etichettato come l'importatore in Italia dell'ozolismo, questa è un'etichetta di Ugo Ietti, e come il teorico del naturalismo e del verismo, perché nel 1879, quando pubblica Giacinta il suo primo romanzo, lo dedica a Zola, collocandosi di fatto nel solco dell'ozolismo. Questo non significa che un autore debba essere necessariamente ricondotto alla sua prima opera, c'è un'evoluzione letteraria, una carriera di oltre 50 anni attivissima che lo ha portato ad aprirsi a istanze diverse, soprattutto è una carriera sostanziata da letture onnivore, non solo autoctone. Capuana fu un lettore spasmodico e vorace di letteratura francese e fu recepito già dai francesi come un intellettuale estremamente aperto. Ho scritto qualche mese fa un saggio sulla ricezione del Marchese di Roccaverdina in Francia, che uscirà a breve in un numero monografico dei quaderni italianisti che in Africa australe, perché Capuana si studia più all'estero che in Italia, paradossalmente. E mi ha colpito molto il fatto che in una delle varie recensioni alle Marchese di Roccaverdina, uno dei primi romanzi di Capuana, l'unico che viene tradotto in francese da Madame Duesnel, i francesi percepissero Capuana come le bourget d'Italie, cioè uno scrittore psicologo, non uno scrittore naturalista. È una percezione totalmente diversa da quella che c'è in Italia, si pensa a una delle prime recensioni pubblicate in Italia da Emilio Cecchi. Cecchi definisce Capuana, il Marchese di Roccaverdina, un'opera del naturalismo tardo e avanzato. Questo ce la dice già lunga sulla nostra gecità nel rimanere arroccati su delle formule definitive e perentorie. Infatti se pensiamo che fu anche il traduttore ufficiale di Casa di Bambola, di Ibsen, non è un'opera qualunque, un'opera teatrale qualunque, quindi significa che già è attento e proiettato verso anche dei cambiamenti sociali. Perché è uno scrittore letterato, cioè è uno scrittore che conosce le forme e i metodi della letteratura e della critica letteraria. L'apprendistato fiorentino di Capuana, la prima novella Capuana il dottor Simbalus, la scrive nel 1867-64, ci sono diverse fonti. Prima di quella data però aveva già svolto un apprendistato di diversi anni come critico teatrale, autore di rassegne drammatiche per la nazione, la perseveranza di Firenze. E leggendo quegli scritti, per quanto possano essere ancora confusi, poco metodici, però sono scritti che testimoniano già una fervida conoscenza di De Sanctis, De Meis. Capuana è un intellettuale che prima di approcciare alla scrittura si costituisce una fervida formazione letteraria. Questo è un aspetto che riscontrava per esempio Edward Rod, il traduttore in Francia dei Malavoglie, in un articolo dal titolo L'Everisme et les contes italiennes, Edward Rod segnala proprio questa differenza fra Capuana e Verge. Cioè Verge è uno scrittore puro, Capuana è uno scrittore critico, che è una cosa diversa, molto diversa. E infatti diversi problemi che ebbe poi nel corso della sua carriera per portare a termine le opere sono legate a questa cosa, cioè la capacità di riconoscere i punti di debolezza di un'opera, spesso gli inibivano proprio la scrittura, quello che lui definisce il passaggio dal concetto alla forma, con risvolti psicosomatici importanti, di rappetenza, difficoltà ambulatoria, la nevrosi di cui parlava prima la professoressa Galvani. Una capacità autostoricistica e autocritica, cioè era in grado di... la stessa pubblicazione di Fausto Braggio è ritardata più volte perché all'inizio quest'opera avrebbe dovuto intitolarsi Un consulto dal titolo di una novella che poi però pubblicherà nel 1901. Lui ritarda, va in combutta con l'editore, aveva già firmato il contratto perché scrive, cito dalle lettere, un consulto vista e rivista è ancora cosa da rifare, cioè non gli piace, lui deve raggiungere la perfezione. Infatti in una lettera a Rod parla di flobertianismo nella forma, cioè ossessione proprio alla rilettura e alla riscrittura. È un problema che mette in crisi perché a volte si ritrovano pezzi di testi degli anni 70 riconfluiti e rimpassati in quelli primonovecenteschi. A volte riconoscere sempre non è facile, ecco. L'incontro tra Zola, Berga e Capuana avvenuto nel 1895 a Roma e lì viene fuori la verità. È un episodio esilarante riportato da Lucio D'Ambra e poi ripreso anche da Corrado di Blasi in Luigi Capuana. Sì, ci fu questo incontro in cui Capuana con la sua solita mania fotografica fece diversi ritratti, ne abbiamo parlato prima ad Alexandre Inzolà, ad Emil Zola e ci fu questo raffronto sulle proprie modalità di scrittura. Quindi Zola raccontò mi sveglio la mattina, scrivo due pagine, vado a fare giardinaggio, vado in bicicletta, poi torno a casa. Berga con il suo solito spirito monolitico, io scrivo quando mi pare, quando ne ho voglia. La risposta di Capuana è io invece devo scrivere tutto il santo giorno perché ho la novella, ho la lezione per le allievi dell'Istituto di Magisterio, quindi anche le condingenze economiche, che poi è un cruccio di tutti i letterati di ogni tempo, hanno sicuramente influito su questo. Poi aggiungiamoci il fatto che era un perfezionista. Questo rivedere continuamente la sua opera sicuramente ha fatto sì appunto che ritardasse la pubblicazione fino a diventare il fuoritempo in base a quello che è lo stile che ha messo in opera. Mi viene da pensare il Marchese Roccaverdina, una gestazione lunghissima. Il capolavoro, che come dicevi tu, forse tu lo spieghi sicuramente meglio di me, avrebbe avuto una fortuna diversa magari. Ma diciamo che i primi annunci sulla pubblicazione del Marchese di Donna Verdina, poi a un certo punto diventano i Roccaverdina, lasciando presagire una saga familiare, poi di nuovo ritorna sul personaggio uomo risalgono già ai primi anni Ottanta, non solo come romanzo ma anche come trasposizione teatrale. E sono continui e iterati, tant'è che a un certo punto diventa una sorta di barzelletta letteraria, cioè il Capuana continua a lavorare a questo Marchese e non lo vedremo mai. Lo pubblica di fatto nel 1901. Resta un grande capolavoro della letteratura italiana, ma rispetto alla data di pubblicazione è un capolavoro tardo. Nel senso che se il Marchese di Roccaverdina fosse stato pubblicato, quando Capuana fa effettivamente la prima pensa, la prima elaborazione, il primo concetto, sarebbe stato un lavoro all'altezza del mastodon Gesualdo, in termini di modernità e preannuncio di temi e stilemi della modernità. Arrivato a quella data, se tu pensi nel 1904 esce il fumattia Pascal, che è ritenuto il lavoro cardine all'inizio della stagione modernista italiana, le recensioni che guardarono al Marchese come un lavoro anacronistico e fuori tempo, sono sostanzialmente giuste. Questo non toglie la qualità estetica del lavoro, che raggiunge livelli di perfezione, di ragionamento minuzioso, sia sulle strutture tematiche, sia soprattutto sulle strutture formali, perché per esempio il tempo del racconto e il tempo della storia non coincidono, c'è un ragionamento netto, molto forte, che fa di quest'opera un'opera moderna. Cioè il Marchese di Roccaverdina sì, è un'opera verista, ma è un'opera che pone al centro della trama e del racconto una personalità modernamente scissa e questo è l'aspetto che interessa di più dell'opera. Come si può fare a sensibilizzare il pubblico a ritornare a leggere Capuana? Perché secondo me questo è un altro passaggio da attenzionare, da studiare, da pianificare anche, oltre a quello che può essere la valorizzazione dell'opera di Capuana agli occhi degli studiosi. Ma guarda, l'aspetto che io apprezzo di più di Capuana è la sua cultura psicologica, cioè un intellettuale che riesce a sviscerare la psicologia dell'uomo moderno in maniera estremamente significativa perché è un lettore dapprima di scrittori di area positivista, lombroso, mantegazza, con tutte le devianze di quegli studi maschiliste e via dicendo. Poi sul fine dell'Ottocento è uno dei primi lettori di Charcot, di Ribot, di Janet, cioè di tutto questo strato culturale prefroidiano che ha sostanziato la scrittura di Pirandello e soprattutto di Federico Tozzi. Quindi questo è un aspetto sicuramente significativo perché leggere Capuana aiuta a conoscere se stessi e la propria interiorità. C'è poi invece un aspetto più esilarante che è quello della scrittura comica e umoristica che è veramente appunto esilarante, cioè estremamente divertente che però nell'aspetto ludico nasconde delle verità, disvera delle verità. Quindi sicuramente questi sono i due poli più che sulla scrittura paesana, come si suol definire riprendendo la sua etichetta, che è canonica, cioè conservativa, lungo tutto l'arco della sua scrittura. È uno scrittore sorprendente e a volte anche straniante. I finali di Capuana non sono mai scontati. Questo penso che sia un aspetto che suscita l'interesse del lettore. Capuana nasce a Mineo, cresce a Mineo, però improvvisamente viene catapultato in una dimensione, se vogliamo, eccessivamente grande rispetto a questo ambiente piuttosto piccolo. Come lo immagini questo suo approcciarsi a un mondo così ampio, così vasto, provenendo da un dall'entroterra siciliano? Ma innanzitutto è una necessità, il primo viaggio di Capuana, anzi la prima fuga, come viene espressamente definita da Mineo per Firenze, quando lo zio disse a Lisi da Bannomunno, c'è questa famosa, questa discrasia tra la regione e il continente, non c'era ovviamente ancora fatta l'unità d'Italia, non erano ancora stati fatti gli italiani, quindi non c'era ancora la percezione di un'unità, ma di un'alterità, cioè la Sicilia era recepita dagli stessi siciliani come un'alterità rispetto al resto dell'Italia. L'arrivo di Capuana a Firenze è un arrivo ovviamente traumatico, come tutte le partenze. Capuana scrive, quando scopre Balzac a Firenze, scrive che sta rifacendo tutta la sua cultura, la cultura regionale che era stata, che aveva sviluppato in Sicilia nel solco della tragedia epica, uno dei primi esperimenti letterari, è una tragedia su Garibaldi, quindi una produzione estremamente autoctana, legata alle dinamiche contingenti del territorio. Scopre poi Balzac, quello che definisce il maestro del romanzo moderno, tutti discendono da Balzac, scrive, e da lì si apre a un orizzonte molto ampio, intrattiene rapporti con intellettuali francesi e anche tedeschi, abbattendo i limiti stessi linguistici. Quando non conosce una lingua si fa aiutare per tradurre e per inviare le sue opere, chiede pareri non solo agli intellettuali italiani, ma anche a quelli d'oltre Alpe. L'aspetto più interessante in questo senso è la capacità, la contezza del ruolo della critica letteraria. Capuana nasce come critico letterario e sa che nella critica letteraria è necessario il dialogo, ma anche il conflitto, che non vuol dire insulte, è una pratica che si è un po' persa. Oggi le recensioni di Anne tendono sempre a incensare l'opera letteraria senza rilevare i punti di debolezza. Capuana recensiva i contemporanei e voleva essere recensito dai contemporanei per cartire i punti di debolezza della sua opera e in questo senso migliorarsi. Questo dimostra una grande formazione culturale, un grande rispetto del ruolo del critico e del letterato. Ecco, leggere Capuana oggi, accostarla al nostro quotidiano, a cosa potrebbe servire? Ma ci sono... bisogna distinguere fra i diversi filoni, perché come ti dicevo non è un autore che si può classificare in un unico incasellamento, appunto. Un aspetto sicuramente interessantissimo di Capuana è la scrittura sia novellistica sia saggistica sulla Sicilia e sulla situazione storico-sociale della Sicilia. Qualche mese fa apprestavo l'appendice di saggi critici recuperando testi dispersi su riviste. Ho trovato questo articolo sul terremoto di Messina del 1908, in cui Capuana denuncia nettamente la parata dei politici, dice sono venuti dal regno a fare la visita e hanno lasciato la popolazione lì. Era un intellettuale che non aveva nessuna paura di toccare argomenti anche netti sulla stampa, quindi esporsi pubblicamente. Gli scritti di Capuana sul cosiddetto sonno dei siciliani, che è un aspetto che in genere viene ricondotto in Italia alla linea De Roberto, Tommasi di Lampedusa, quella linea che Spinazzola ha definito del romanzo antistorico, cioè a quel tipo di produzione siciliana che è che affronta il motivo della situazione storica e sociale della Sicilia. Capuana lo fa in un modo diverso. Scritti come La Sicilia e il brigantaggio, la stessa Isola del Sole che racchiude tutti quegli scritti lì, la prima riflessione sul concetto della mafia, dimostrano come Capuana fosse un intellettuale, sì, posto in una posizione difensiva della Sicilia, ad esempio fu uno dei primi a controbattere l'inghiesta franchetti sonnino, secondo lui ignominiosa che aveva recato un'onta sulla sicilianità, ma al contempo anche un intellettuale in grado di riconoscere i difetti e i contrasti della sicilianità. E questo è un difetto che abbiamo tutti noi meridionali, cioè riconosciamo i problemi del nostro territorio proprio quando qualcuno da fuori, che percepiamo come alterità, ce li fa notare, ci poniamo in posizione difensiva, a dire no, non devi permetterti, statene a casa tua. Voler bene al proprio territorio, secondo me, parte anche dal riconoscere le contraddizioni e le discrazie del proprio territorio. Capuana fu assolutamente in grado di fare questo sforzo, sia a livello saggistico, sia a livello di scrittura di fantasia. C'è una novella, un racconto lungo, in realtà le definizioni si perdono. In questo senso il benefattore, che sicuramente tu conoscerai lì, mette nettamente in evidenza l'incapacità e la cecità dei braccianti locali di sfruttare a pieno le ricchezze del territorio, lo sguardo di sdegno nei confronti dell'anglosassone che giunge e riesce a far fruttare un territorio che era ritenuto sterile. E poi, nel finale, emblematico, lo sguardo attonito degli autoctoni di fronte a un terreno che ha ripreso l'attività. Ma lo stesso discorso appare nel Marchese di Roccaverdina, l'impresa della società agricola nel Marchese di Roccaverdina, è un'immagine lampante dell'incapacità. Quindi tu sicuramente te lo sentirai, te lo sentirei addosso, c'è quella voglia di fare, anche con un piccolo evento del genere, in un territorio dove tutti ti dicono, ma chi te lo fa fare è meglio che resti la cenere. Invece no. La misinterpretazione dell'opera di Capona parte anche da questo, cioè letto da fuori quei personaggi sono stati classificati, cito dal volume di Anna Stortiabate, macchiette comiche, tipi comici tendenti al grottesco, pupi siciliani, cioè personaggi privi di qualsiasi psicologia. In realtà sono personaggi che sottendono un messaggio contrastivo e di denuncia di una dinamica che si protrae in maniera iterata nel tempo. Sì, ma Capona è un intellettuale dello slanzo vitalistico, come dico io, tant'è vero che ti dicevo prima sul discorso sui futuristi. Difende Marinetti nel processo contro Mafarca il futurista, senza tuttavia però mancare di notare gli eccessi dell'avanguardia, cioè quando recensisce i futuristi dice io li difendo perché tra l'attesa, la stasi e il fare preferisco l'ottica del fare, poi che abbiano tanti problemi questi ragazzi in quanto vecchione, dice lui poi glielo spiegherò perché non si può distruggere la tradizione, non si può abbattere il passato, però è un intellettuale che ha un grande slanzo attivo, un'ottica del fare e questo lo ha portato ad un'iperproduttività, ad un'ipertrofia del fare, del pensiero che spesso lo hanno danneggiato perché è apparso come un intellettuale aperto a troppe istanze, incapace di approfondirne alcune in maniera specifica, questo soprattutto se si istituisce un paragone costrittivo, per alcuni versi converga, che invece fu un intellettuale, uno scrittore estremamente monolitico, fermo, su un'impostazione riconoscibile e facilmente, non facilmente perché un intellettuale estremamente complesso, però inquadrabile, cioè studiabile secondo delle linee predeterminate, con Capuana questo è impossibile, tant'è vero che studiarlo a volte è stancante, giornate intere passate con Capuana sono stremanti perché è una sollecitazione continua, sono una serie di cose continue, mi ricordo ho passato una settimana a cercare di capire chi fosse Chouvet, a un certo punto dice quello Chouvet che parla di Cristo perché aveva una serie di impazzita finché il mio professore in maniera epifanica, mi disse ma sarà forse Chouvet, c'è stato un errore di grafia e lì mi si è aperto il mondo, perché è una citazione continua, un bagaglio di conoscenze che ricondurre spesso al riferimento preciso è veramente estremante. Bene, domande? Non lo so, siccome si insiste sempre su queste critiche, su queste sue curiosità, io mi chiedo se è possibile, ma è un'ipotesi veramente un po' folle la mia, trovare invece una sorta, non dico di unità che è così, ma di totalità alla data, come Gata diceva di se stesso, tra le fiabe, la narrativa, la saggistica, la fotografia, la critica, tutto questo bagaglio di… perché secondo me a fondo a fondo a fondo a fondo ci deve essere, sarà difficilissimo però trovare questa specie di figlio che unisce un po' questi… poi c'è anche il capuana, il capuana spiritista e il capuana, come lo chiamiamo, metafisico, non so come chiamarlo metapsichico, si dedisce a lui che è il capuana metapsichico che si converte a questa religione, è interessantissimo pure quello, secondo me, e ha a che fare, secondo me, col primo capuana naturalista o realista. Ma diciamo che io con un tentativo un po' coraggioso, anche timoroso devo dire, a un certo punto della mia tesi ho scritto, secondo me non è eclettismo ma è relativismo metodologico, nel senso c'è capacità di possedere più metodi, padroneggiare più metodi, tenendo però fermo lo statuto del narratore, cioè quello che si riscontra, la linea di continuità fra il capuana novelliere, il capuana romanziere e il capuana fiabbista è il sostrato folclorico e orale della sua formazione. La volutà di creare, in questo senso, è un titolo che è inequivocabile da questo punto di vista, quella prefazione al Decameroncino in cui il dottor Maggioli, illudendo il lettore in quanto narratore inattendibile, dice quello che sto dicendo assolutamente vero, per poi nel finale dell'opera dire no, guardate che era tutta una menzogna, erano tutte storielle inventate, cioè proprio la volutà dell'atto estetico, la creazione artistica che rappresenta il filo conduttore, l'importanza di creare, di narrare, quella che lui definisce volutà e questo secondo me è il filo conduttore di tutta la sua, la difesa o il transista del diritto di raccontare, quello secondo me è l'aspetto di base di tutta la produzione di Capuana, che è sicuramente poliedrica, ma che si ottende sempre a questo intento, cioè difendere lo statuto della letteratura e la funzione del letterato, cioè del creatore di storie, che sia orale, perché lui aveva questa abitudine di farsi raccontare dai contadini storia all'estina ammarica, quando ritorna dopo anni, lo dice nella Sicilia il brigantaggio, e le contadine gli risultano pappagallescamente mitingaie, cioè non sanno più le storie del posto, ma ripetono quelle napoletane. Quello per lui è un dramma, perché secondo lui si pende la genesi locale della creazione artistica, che poteva fare un contadino come un racconta storia. Come perdere l'istinto e anche la percezione del posto in cui si vive. Io ringrazio infinitamente Ilaria per la sua opera, per il suo studio, per la sua attenzione sì. No, ti ringrazio io perché l'anno scorso ad ottobre ero qui a studiare i manoscritti per questa edizione, misurare la differenza tra un primo viaggio esplorativo e quello di oggi, di conferma, con un supporto materiale di fronte a me, è molto bello per un giovane studioso, quindi grazie di avermi invitato. Grazie a te, il mio vi aspetterà sempre, per noi, grazie a tutti voi per la vostra presenza, per la vostra attenzione. Grazie a te, il mio viaggio.